Ciao a tutti e benvenuti alla Polpa Lentone, il sotterro sovrancato, il sotterro sovrancato, la mia storia artistica è iniziata con la passione della musica. Ascoltando una radio di Milano, che si chiamava Radio Milano, la famosa One On One, che adesso si chiama NRC. Però ai tempi era una radio di radio della musica, che era una radio dove ti apprezzionavi ai speaker, e soprattutto uno in particolare che tutti si ricordano che siamo rinforzati nel G.V.I.O.P. Siamo tutti innamorati di lui e della sua musica, ma in Italia doveva imparare a fare. Devo capire come era fatto. Daniele, personalmente, la sua giurazione, la musica è in questo mondo, che poi è diventata la musica. Un giorno insieme ad un amico, dopo che aveva iniziato a lavorare al DJ, lui mi disse ma perché non fai il disco? E io gli disse ok, fai il disco, ma come funziona? Lei mi dice no, fai il studio e fai quello che ti senti. Allora, siccome io avevo già la passione, avevo già degli idoli o comunque c'è dei gruppi o dei cantanti da seguire, sono andato in studio e avevo realizzato una persona che era una cover, un'opera d'arte, secondo me, quella che è quella che era di John Spence, musica, e quindi avevo realizzato questa cover che è una generale. E tanto successo mi ha dato. che è un'unica come lo sono tutti i paesi, cioè io credo che ogni paese di Stato ha la propria cultura, della propria terra ha il nostro gusto e quindi l'Italia. Credo che questo sia abbastanza maestro, sia nella sua musica locale e nel mondo. Innanzitutto io dipendo la musica italiana, ci sono stati dei periodi dove anche i produttori italiani hanno avuto successo nel mondo, parlo sempre nel mio settore di DJ perché se invece parliamo dei cantanti italiani noi lo sappiamo che da anni, da sempre, ci sono i grandi top della musica leggera italiana che hanno un grosso successo nel mondo. Però se parliamo del mio settore di coloro, la discoteca e la DJ, diciamo che sono stati dei periodi dove andava bene perché producevamo tanta bella musica, e adesso ci siamo in un momento dove magari assistiamo un altro momento. Si, si, si. Andiamo che sono comuni a parlare che è una musica avanzata. La musica avanzata. La musica avanzata. Quanti ragazzi di Milano si chiamano STJM che hanno avuto un grosso successo con una cover dei Backstreet Boys. Quindi la cover comunque esiste assente. Però diciamo che ci sono tanti produttori e anche DJ internazionali che vanno a pescare qualche nota o qualche, o qualche, diciamo, passaggio di un noto disco vecchio e lo riusano scrizzato in un'altra maniera. E questo, devo dire che De Vichetta è un bambino. Iniziale. Mi piace superare i colleghi. Toccare la musica di un altro video. Sì, soprattutto perché sono nato con i vinili e mi dispiace un po' non mangiare più i vinili perché mi divertivo tantissimo. Tengo a dire che la tecnologia avanza e sono a favore della tecnologia che avanza e quindi io mi sto adiguando la tecnologia. tanto che in questo momento io lavoro con la chiavetta OSD o addirittura anche con l'OSD. Quindi sono un pomo e anche se la cadenza e il cambiante. Guardi il tuo rapporto, il tuo rapporto? C'è un rapporto che nasce dalla stretta amicizia con Linus che era legato soprattutto al fatto che io giocavo a pallone in categoria in Milano e lui mi chiamava per vincere le sue partite con i suoi amici. Quindi io arrivavo e gli risolvo quel problema. Però è anche vero che io conocco Linus, tramite una radio di provincia di Milano insieme a Radio Super Antenna Monta. Lui veniva a lavorare per un periodo di tempo e siamo diventati amici e dopo un po' di tempo, dopo che per tanti mesi io mi stavo addosso dicendogli fammi fare questo lavoro, fammi questo lavoro. Noi mi chiamavano a venire finalmente a lavorare alla Lige e dopo un po' di tempo. E da lì inizio il rapporto con la Lige, andando tuttora avanti. Per quanto tempo spieghi le sue partite con i suoi amici? Per quanto tempo spieghi le sue partite con i suoi amici? Per fare un programma, allora diciamo che la diretta è la diretta che cotta e mangiata. Cioè noi siamo in diretta un'ora e mezza, tutto il giorno, quello che esce, di qualsiasi cosa. Dicermi trovo, un buyer, delle tecnologie, quella è, se la fai bene, se sbagli, quella è la diretta. Poi diciamo che io molto realizzo la DJ Parade, che è la serie della DJ che veniva nel salato delle due e tre, con la voce di Albertino e lì diciamo ci sono più seri, c'è la registrazione della voce di Albertino, e poi c'è il montaggio che diciamo che è il montaggio allora, è tre ore la voce. In Italia? In Italia 1. In Italia 1. Inizio l'avanti qualche cosa, parole, calche. Sì perché quello è stato un momento particolare della nostra carriera con Albertino, perché venivamo dalla radio dove noi dalle due alle quattro mettevamo, e non davamo il coraggio di mettere della musica che le altre radio non mettevano. Quindi era anche per altri inascoltabile, per noi invece era molto simpatica la cosa, e forse il nostro successo è stato diffuso anche a questo. però quando ci siamo resi conto che ci siamo stati chiamati da un antifond, era arrivato a fare un programma da due alle quattro, abbiamo capito, in Italia 1 abbiamo capito che forse non era il caso di continuare a mettere quella musica lì, ma di cominciare a guardare e mettere quella musica che ha acchiapparsi tutti e che tutti conoscivano. Quindi ci siamo un attimo a conto. Ti chiedo al tuo pensiero, al tuo pensiero, al tuo pensiero, al tuo pensiero, a quanto tempo a prendere il tuo pensiero? Sì perché hai cambiato il metodo, dalla musica all'ascolto. Adesso i ragazzini, non è una battuta ma è roba vera perché l'abbiamo sentita più una volta questa cosa, i ragazzini quando tu gli dici noi trasmettiamo a radio DJ, i ragazzini ti dicono, ah dove si sente? Siamo arrivati a questi livelli, i ragazzini non lo sanno che è una radio, non lo sanno che si sente in FM e non sanno cosa cosa. Allora quando gli dici c'è un'applicazione, ah c'è un'applicazione, ok. Mi chiedono il primo, ragazzini ma no siamo ycline, i ragazzini ormai sono sul cellulare, Spotify a manetta, YouTube a manetta ma cosa ascoltano e cosa vedono voi? Frevola musica reale dice se al mientras se canola mettere l' Especially When Come If You Ho letto? No, non ho tu inigerio e non ti rendo l' Drinko che l'enciascio Si Allora se tu vi ho uscito a Melli can richardo Si Se mi mi pare di come si ricciano quando non ho metjo E te parli? Senti, te parlo perché avevo girato prima il mio primo disco è stato Music, che è una cover di John Mays, secondo me è stato The Music is Boy, invece è un inedito, è sempre fatto nello studio della Media Records, che in quel momento la Media Records aveva delle grandi etime del mondo, soprattutto in Inghilterra, aveva scomolato come cappella, anche a cappella, di tutti e tutti, lui, e è stata una bellissima esperienza anche perché poi dalla Media Records sono partiti tanti altri produttori e DJ dei famosi come Giulio D'Agostino e Mauro Piccotto e tanti altri, quindi in quel momento io ero in uno studio migliore di Italia che aveva scoperto la primavera. Una domanda che mi faccio anche a me, i miei figli sono i miei belli, il romo della vita? Certo che sì, tutta la vita, si può morire per il film, assolutamente. Io dico che nell'intere della persona c'è il produttore, magari non è discografico, ma è produttore di qualcosa, questo per dire cosa? Secondo me, in ognuno di noi c'è del talento, certo non devi essere capace di scoprire qual è il qualità, nella qualità, nella qualità, si sta in genere, secondo me è bella, si, alla di qualità, se una cosa è bella probabilmente è una serie dovuta dal genere, certo non tutti sono capaci di scoprire, però tu lo scopri. Puoi servire telemonicamente a un paciente, a un progetto, a un progetto, sì. In un progetto, a un genere di arte, un giudicato, un giudicato, un passaggio come rubola. devo dire che ci sta assolutamente è bello, è bello io, caro dopo comunicare ci mettiamo già lì alla fine di questo vi ringrazio grazie a me è stato bene il Ponte Lupo mi sono stato benissimo allora, riportiamo il canale YouTube che è il canale grazie 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 per la visione!